I problemi del territorio devono approdare a Roma. Il sindaco di Brindisi Pino Marchion è in missione alla convention di Forza Italia Pestum per un confronto con i vertici di Enel. Qui è presente l'amministratore delegato Flavio Cattaneo e chiedere al governo di aprire una vertenza a Brindisi che includa le criticità della centrale Federico II in vista della ormai prossima decarbonizzazione e quella del polo chimico dopo la decisione di Lion del Basel di chiudere uno degli impianti brindisini. Cosa richiede ad Enel? Intanto un impegno molto più significativo nel piano di decarbonizzazione anche alla luce di alcune dichiarazioni molto poco apprezzabili che il direttore di Enel Italia ha fatto con riferimento alla fabbrica Gica Factory per la quale ha detto che ce n'è solo una a Catania e che l'Enel non prevede di farne altre. Questa è una cosa estremamente importante non solo ma c'è tutta l'ipotesi della chiusura della phase out della centrale che doveva partire peraltro a fine di questo mese di ottobre. Quindi da questo punto di vista gli effetti negativi di questo disimpegno potrebbero essere da subito e immediatamente molto pesanti per la nostra città e di questo intendo parlarne anche se ho già annunciato anche in Consiglio Comunale che comunque io sto preparando le basi, una sorta di protocollo di una vertenza brindisi che non coinvolga solamente gli aspetti della decarbonizzazione ma anche quelli dei grandissimi rischi che sta in questo momento vivendo la filiera chimica, il polo chimico con l'annunciata chiusura del P9T di Basella. Sono una serie di preoccupazioni molto serie, io ho già interloquito con il Vice Ministro dell'Industria che peraltro è delegata anche alle aree di crisi industriale e gli ho già chiesto di aprire un tavolo immediato per Brindisi.